La gallina razzola il terreno, Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di Letteralmente Radio Yoga Network, siamo il nettere dell'Ethere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day, canalizzatevi! E devo dire che oggi mi sento veramente green, più in forma che mai, perché tra un po' andiamo al parco, sì 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 sì, andiamo al parco e intanto io in questo momento potrei fare grrr, grrr, anzi sì sì perché siamo in diretta e poi tra un po' arriva anche la Jacqueline, anzi è già arrivata la Jacqueline, signori è già arrivata, come sono arrivato io ovviamente, e dove, dove, dove? Grazie a lui, Guglielmo Marconi che ha inventato la radio, lo so lo so lo so e Siamo in diretta mondiale, oggi è sabato, stanno arrivando i primi messaggi, ecco, ecco, oggi è sabato? Ma dai, il numero è dato Cos'è, cos'è oggi Jacqueline, cos'è? Non è venerdì? Ah è venerdì, e ma allora, vite vite c'è tempo, come dicono in francese, ma oggi è solo venerdì, ma signori, ma signori, ma oggi è venerdì 11 settembre 2020, dal Voce di Maurizio DJ, da Letteramente Radio Network, dallo Studio Zero, Rete Ferrara, che stiamo anche cercando una nuova sede, ma comunque vedremo cosa fare nei prossimi tempi, 9.03 minuti primi, 57 secondi, 41 decimi, ovviamente io saluto anche lui, Gianluca, ieri sera, grande Gianluca era all'ascolto in diretta, ecco, ecco, allora noi stiamo cercando di fare un primo trasloco, perché abbiamo in mente varie situazioni, ecco, devo dire, ovviamente lo diremo al momento opportuno, Gianluca ieri ha ascoltato solo il sottoscritto senza telefonate, non ho fatto telefonate, i nostri collaboratori, collaboratrici nuovi, ma ne di artisti, eccetera. Per un po' di tempo ho deciso di non fare più nulla, perché? Perché parliamo solo, parliamo dei fatti che stanno accadendo in Italia e parlavo questa mattina, all'alba, già sui problemi della scuola, con delle mie amiche, infatti, ecco, stanno arrivando anche telefonate, ecco, no? Allora, non telefonate, eh, mi raccomando, perché io leggo solo i vostri messaggi che arrivano al 347 010 7000 e oggi è solo questo numero riservato per eventi, pubblicità, eccetera. Ecco, stanno arrivando messaggi, messaggi in continuazione, cominciamo a leggerli, ecco, questo è il bello della diretta, signori, allora, vediamo un po', allora, c'è un messaggio di, eh, sì, di lei, eh, ovviamente, della nostra Susi, ecco, c'è il tablet che non si apre oggi, ecco, 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 allora, si è aperto, allora, sì, allora, Susi dice, cioè, è una parola, perché io ho il monitor troppo lontano, ecco, la Jacqueline, eccoci, brava, brava Jacqueline, no? Perché come succede anche dei direttori di rete, conduttori televisivi, non vedono i messaggi perché hanno i monitor troppo piccolini o distanti, eh, lo schermo è piccolo, infatti, allora Susi dice, perché, visto che le regole sono generali, ma poi ogni comune le esegue a suo modo, comune io aggiungerei regione, ecco, perché anche qua non si capisce le, diciamo, le qualifiche, le, diciamo, le funzionalità, perché la colpa va sempre a un comune, una volta era le province, adesso è il comune che prende le colpe, in realtà a volte è la regione, perché è la regione che decide, non solo a livello di qualità territoriale, comportamenti, regole, metodi che ogni comune deve eseguire, comportarsi in modo civile, eh, che queste regole, ovviamente i governatori di tutte le regioni dell'Italia, ovviamente di questo stivale, il problema, il problema è questo, che le regole arrivano poi da Roma, eh, nazioni Italia, continente Europa, eh, ovviamente i governatori stanno anche lì, eh, ha delle regole, eh, giusto per capire. E, allora, eh, Susi scrive, perché visto che le regole sono generali, ma poi ogni comune le esegue a suo modo, avendo già messo in preventivo che non si riusciranno a farle rispettare in pieno agli studenti che pensano e le richiederanno presto, quindi ci mettono le votazioni in mezzo, così hanno uno stacco assicurato, sono molto, molti, scusate, i docenti positivi, quindi c'è anche una carenza organica interna. Sì, eh, Susi, allora, io l'ho già detto in diverse volte da un anno e mezzo, due anni, che io non solo, ma altra gente, anche gente esterna, non della radio, che me lo comunica da due anni, due anni e mezzo, che ci sono problemi di assunzione, è tutto bla bla bla, però aria fritta, cioè è comodo sempre, sì, sì, ah, facciamo qui, facciamo lì, assunzioni per tot, milioni di euro, eccetera, eccetera, boh, ci sono problemi di assunzioni, infatti i nostri ascoltatori, ascoltatrici, collaboratori, collaboratrici notano questo, cioè promettono, promettono, come il piano delle frequenze, perché io ritorno, eh, ne parlavo anche prima con l'OsaClean, cioè il Ministero sta facendo altro, ma sulla televisione digitale terrestre futura, eh, non si presenta, non sta facendo nulla, eh, sul piano delle frequenze, non ha ancora, in parole povere, assegnato le frequenze dove le emittenti pluririgionali o interregionali devono trasmettere, noi sappiamo qualcosa, però è tutto indicativo, non lo diciamo, perché probabilmente può cambiare da un giorno all'altro, da un mese, da un anno, ma ci sono delle date di scadenza che arriva dalla UE, e se la UE, eh, ci starebbe bene una bella multa all'Italia, perché non si danno una mossa ultimamente, non si capisce quale MUX, non LCN, attenzione, quale multiplex verrà assegnato per ogni regione che sarà completamente diversa, ad esempio il Trentino avrà un suo MUX, l'Emilia-Romagna ne avrà un'altra, la Sicilia ne avrà un'altra, è quello il problema, io sto parlando delle emittenti pluririgionali, interregionali, quelli che mi interessano a me, in parole povere, perché non è un problema delle reti nazionali, reti indipendenti, loro non hanno questi problemi, i problemi sono i piccoli, i piccoli che essendo in troppe, troppe antenne televisive, saranno costretti a breve licenziare e l'editore poi passa, nonostante anche l'età, passerà a valutare alla chiusura dell'emittente, è già successo in passato e tra 7, 8, 9 mesi c'è questo rischio se nessuno si fa di liveo entro 2-3 mesi, ci vuole chiarezza, non dico che non è stato fatto nulla, per carità, no, è stato fatto qualcosa, anche sulle problematiche interreferenziali, cioè sulle interferenze anche all'estero, abbiamo proprio degli esperti, ovviamente ne so pacchi anch'io, non è quello il problema, visto che monitoriamo le frequenze anche noi, monitoraggio a Campione, in tutta Italia, in particolare in Emilia-Romagna, siamo molto attenti, c'è un controllo, diciamo 21 ore su 24, è garantito il controllo, ore e minuti, intanto qui telefonano a destra e a sinistra, ho detto solo messaggi, se no chiudo la trasmissione, bene, andiamo avanti con i vostri messaggi, ah sì 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 sì, no no no, è giusto, è giusto, sì sì no, ma io capisco che chi lavora nelle scuole dalla semplice bidella, maestra, dicono che è un caos, sì, la scuola attualmente è un caos, lo so, lo so, signori, lo so, anche con la storia delle rotelline, a livello distanziamento, alcuni addirittura vanno lì nella scuola, si trovano una specie di poltroncina, in plastica, questo non lo so dire perché non l'ho ancora verificato, ma lo verificheremo, andremo anche a fare delle interviste sul posto e a volte, boh, così, forse è passato Silvan, sin Salabin, con la sua bacchetta magica, ha fatto sparire i banchi di scuola, eh sì signori, questo materiale, se uno ha, non so, una borsa, qualcosa, dove la mette? La mette sulla scrivania dell'insegnante? Non so, se ci sono 15, 20, 25 allunni, dipende, un'aula, eh, una sezione scolastica, quanti posti tiene, non lo so, se sono 21, 22, 15, non lo so, perché sono numeri che vorrei giocare, dove? Alla lotteria, alla lotteria ci vuole? Allora, vediamo perché il tempo, signori, stringe, intanto qui telefonano in continuazione, arrivano messaggi, eh, 9 e 13 minuti primi, 0,4 secondi, oggi è solo venerdì, eh, venerdì 11 settembre 2020, dalla voce di Maurizio DJ, letteralmente Radio e Network, dallo Studio Zero, Rete Ferrara. Arrivano tanti messaggi, ancora, eh, ma vedo che stanno ancora scrivendo, eh, questo è il bello della diretta, eh, signori, oh, che bello, che bello, c'è anche la Jaclyn, ecco, ecco, che lei contenta, perché tra un po' inizia a fare il trasloco, la prima parte, ovviamente, perché, perché, insomma, stiamo cercando, stiamo cercando, sarebbe meglio cercare una bella baita e fare lì tutto, agriturismo, barra, cine, teatro, radio, televisione, tutto, tutto, eh, sarebbe bello concentrarsi lì, in montagna, magari vicino io la lancio così, al nostro ex studio 5, Montebaldo, ripeto, ex, e sarebbe bello, bellissimo, ma, chissà, un domani, mai dire mai, eh, allora, andiamo avanti con i vostri messaggi, eh, ecco, ecco, il tempo, però, è tiranno, vediamo, vediamo se riusciamo a leggervi un altro messaggio importante, ah, bene, che bello, che bello, e lo dice anche la nostra Maria Grazia, una collaboratrice, ve lo leggo, ecco, non saprei cosa risponderti, Maurizio, so solo che io non ci vado a votare, cominciamo già, eh, allora, ripeto, non saprei cosa risponderti, Maurizio, so solo che io non ci vado a votare, perché tanto non è che si risolvono tanti problemi, eh, siamo noi che dobbiamo cercare di comportarci bene, perché quelle persone che sono al Parlamento, eh, vabbè, pensano solo ad occupare una poltrona e avere un buon stipendio, non lo fanno a interessi del popolo, ecco, questa è una sua espressione, ecco, ricordo che letteralmente Radio Geo Network, dallo Studio Zero, Rete Ferrara, i nostri altri studi fanno quello che vogliono, eh, comunque c'è una regola che abbiamo deciso, non si parla di politica, ripeto, non si parla di politica oppure in formato superficiale, ecco, ma non il conduttore, ma ovviamente chi collabora alle nostre domande, ovviamente, sono stato chiaro? Penso di sì, eh, bene, dicevo, questi parlamentari guardano al loro stipendio, alla loro poltrona, poi dice, Maria Grazia, eh, il lavoro, eh, allora, non lo fanno a interesse del popolo, il, il lavoro si vede malissimo, eh, cioè, se non muovi il computer, esa clean più vicino, ecco, no, perché stava facendo le pulizie, mi ha girato il monitor, eh, ecco, il lavoro, eh, ma lo fanno, ma lo fanno per interessi per loro, interessi per loro, che ne dici, cosa ne pensi Maurizio? Eh sì, sei un vero amico, allora, io penso solo questo che dobbiamo chiudere perché siamo in rosso, vi saluto e alla prossima, ciao! Letteralmente Radio Yoga Network